musica Ciao a tutti ragazzi da The Face Game Top 5 BOOGS Hai zitto che voglio vedere questa intro Mettete like subito perchè questo video vi farà spaccare in due da ridere ragazzi Dovete mettere like, condividere e obbligare chiunque a vederlo Ci sono delle cose che non potete nemmeno immaginare Al numero 5 troviamo subito Assassin's Creed Liberation ragazzi HD Dove abbiamo appunto l'Assassin's Fuor d'acqua Ma mi chiedi scusa se la terraferma è così in acqua com'è? C'è cammina normale? Non lo so Fai lo stile Ma il fatto è che non è che sta nuotando sul legno No sta volando Sta imparando a volare? Esatto bravo, sta imparando a volare Stanno mettendo la mod di Dragon Ball così dopo diventi Goku Dabbi un po' di stile libero dai Ma lei è una donna Si E' la protagonista di Assassin's Creed Liberation Al numero 4 ragazzi troviamo invece Ooooooooo Ma non cantare c'è già la canzone Ma se c'è la canzone sotto Cioè tu ti spanchi i coglioni per mettere la canzone sotto e ci canti tu sopra E però la trada ci canti anche di merda Ora che povero Comunque è un successo una roba tragica C'è tanto i poteri che sta spostando il camion con la mente Cioè guarda comunque è un incidente veramente ha rovinato delle famiglie Fermo, questa qui è una scena tratta da Final Destination Cioè io sono commosso Comunque lui si è spaccato No perché no, l'autista no perché dall'altra parte L'aiuto di silenzio Basta Ma dura un minuto la top che cazzo siamo? Al numero 3 Al numero 3 Al numero 3 ragazzi c'è un problema grosso Allora lui vedete sta guidando l'antiaerea Ok? Che cosa succede? Succede questo? E' così... Bella la natura Quando vedi due mezzi corazzati che si amano così intensamente Da compenentrarsi Ma c'era l'elio dentro? Non ho capito Sono carri all'elio Carri all'elio Da puntare Sono carri all'elio Aglio e elio Sono aglio e olio Ecco Sono aglio e elio e due carri Scusami tu, lui è arrivato giusto nel punto in cui si è respammato il carro Vabbè Sono due carrozzelli Al numero 2 ragazzi troviamo E' Giovinco che viene Alti di Giovinco Ah no cazzo Giovinco fuori dal campo No io non esco Non voglio giocare Adesso sto qui in mezzo al campo Ecco Ma dai Ma gli vengono due polpacci impressionanti Ma si è messo la tuta eh Ah bello Scusami Ma la cosa più fega Tutti gli altri che ci giocano Non è Giovinco qua Eh? Non è mica Giovinco Non è Giovinco Dico io che è Giovinco Ma che cazzo allora mi dici? Scoglionazzo Vabbè dai Non hai capito Al numero 1 ragazzi c'è il zombie Ben Heels ragazzi Vedi presente quando tagliate le gambe Che loro camminano con le mani? Si certo Ecco effettivamente lui lo fa letteralmente Ecco Ricamina sulle mani Cioè io ti ho fatto una domanda prima Ma scusa perché non gli colpisce? E tu mi hai risposto Giustamente E io ti ho detto scusa Come fa? Sta camminando sulle mani Ha le mani impegnate Ha le mani impegnate Come dice Divo E' difficile essere colpiti E la musica di Ben Heels dà qualcosa Al clip che non avrebbe senza la musica di Ben Heels Quindi bravo Provo Taylor Grazie grazie Mettete un like a questo video eh ragazzi Eh ragazzi perché veramente è stupendo Se il video vi è piaciuto cliccate su mi piace Come fa a non esservi piaciuto? Come fate a non iscrivervi al canale? Come fate a non condividere questa cazza di video? Come fate a non iscrivervi alla nostra pagina di Facebook? Come fai a non andare a far culo? Ciao a tutti e al prossimo video Come fai a non andare a far culo? Ciao a tutti e al prossimo video